Allora Ion, direi una difesa che regge, una difesa che non ha bisogno peraltro di conoscersi perché tu Palette e Lucarelli vi conoscete molto bene. Ti chiedo un giudizio sulla partita di oggi, devo dire un buon primo tempo del Palma, poi ovviamente un po' di stanchezza è arrivata. Sì, è vero che abbiamo fatto una buona partita. Oggi l'importante era di mettere a posto il nostro gioco e quindi l'abbiamo messo durante 90 minuti. Dopo è vero che c'è un po' di stanchezza, un po' di caldo e quindi è vero che è stato un po' difficile, soprattutto alla fine. È vero che c'è anche i bravi ragazzi di fronte a noi. Ormai sono passate due settimane e mezzo dall'inizio Ostuni, quindi la squadra adesso sta carburando, si sta formando il nuovo gruppo. Ti chiedo come nasce il nuovo gruppo anche con i nuovi integrati che mi sembra si sono integrati al meglio e a che punto sono le gambe, perché poi sono quelle che devono viaggiare nel ritiro. No, penso che ovviamente le gambe sono molto pesanti, soprattutto con il tempo che c'è, ma per pedalare e per lavorare dobbiamo cominciare di là. Dopo per i nuovi arrivati io penso che il Palma è come forse una casa, quando qualcuno arriva si sente subito bene, come mi sono sentito io l'anno scorso. Quindi penso che i ragazzi si mettono in dimostrazione subito sul campo. Gli obiettivi di quest'anno per te, Ion, oltre al Palma, una stagione che deve essere importante per te, come per tutta la squadra, però c'è magari un obiettivo particolare, non ti chiedo i gol, perché l'anno scorso ne hai fatto uno e comunque per un difensore va già bene. Però un tuo obiettivo personale che ti sei fissato, magari hai detto quest'anno voglio? No, quest'anno semplicemente voglio continuare come ho finito l'anno scorso, direi di continuare a giocare con continuità e dare il mio massimo per la squadra. Dopo obiettivi vengono partita dopo partita. Adesso c'è il Marsiglia, insomma una squadra francese, quindi anche per te, insomma per i tanti giocatori anche di lingua francese che sono nel Palma è quasi un derby, ci sono sei giorni per riposare, sarà il primo vero test, cioè come se fosse una partita vera quella del Tardini di settimana prossima. Sì, soprattutto che in Marsiglia è una bella squadra, finito il secondo del campionato francese, io conosco bene questa squadra visto che ho giocato in Francia, quindi è vero che sarà il primo grande test, abbiamo ancora una settimana per lavorare bene e per ammettere i nostri movimenti a posto. Primo gol di Amaury, non male, insomma, un gol, mi spiace per il difensore Renate, però davvero un grandissimo gol. No, ha fatto un bellissimo gol, ma siamo abituati, anche l'anno scorso ha fatto ancora dei più belli. Grazie, ciao. Grazie.